L'arte incontra la lavorazione delle api. La ceramica si sposa con la cera prodotta dai piccoli insetti. Ariana Carossa, artista di Genova che vive e lavora a New York, si trova in questi giorni a Feenza per una residenza d'artista del Museo Carlo Zauli. Con la collaborazione di Apicultura Rondinini, azienda di Pieve Cesato, leader a livello nazionale, Ariana Carossa ha avviato un nuovo progetto scultorio di relazione per integrare cultura e natura, la ceramica con i favi e la cera delle api. Le opere d'arte saranno presentate la sera del 30 luglio al Museo Carlo Zauli per poi essere definitivamente inaugurato d'ottobre a lavorazione ultimata. Lavoro la ceramica da più di 15 anni, quindi poi io sono ligure anche se vivo a New York da 10 anni e da genovese al Bissola è sempre stato un punto di riferimento. Un modo per me è usare la ceramica, usare soprattutto il modellato che è la parte che mi interessa di più di tutto il processo, entrare in relazione con la scultura e quindi sono stati i miei primi passi nella scultura perché prima dipingevo solamente. In relazione a Fenza non solo con la ceramica ma anche con le api, la produzione delle api, il miele, la cera delle api, come funziona questa simbiosi? A me interessa moltissimo mettere insieme elementi tra loro distanti, come dicevo prima nella conferenza stampa e in questo caso i resti degli animali con una scultura tradizionale. Per quello che riguarda i favi sono un resto di animali e quindi hanno un processo organico, come mi interessa riuscire ad integrare le cellette del favo con tutto il resto della mia produzione più tradizionale. Sottolineato prima in conferenza stampa la produzione delle api è vita, l'avete sottolineato più volte. Sì, è vero e infatti secondo me questa cosa inserisce all'interno del lavoro che faccio un aspetto di quasi rivitalizzazione dell'opera e in un certo senso i resti degli animali che sono resti quindi abbandonati in qualche modo rivitalizzano l'opera, quindi è giusta la tua osservazione. Ecco, sei in lavorazione dal primo giorno che sei arrivata qui a Fenza all'azienda Rondinini, ma che cosa ti aspetti da questa residenza fra azienda Rondinini e Museo Zauli? A me interessa provare piacere quando faccio le cose nel momento in cui le sto facendo, quindi mi piace quello che faccio e non ho aspettative, ti ripeto se non quella di continuare a fare delle cose che mi piacciono, quindi andrà sempre tutto benissimo.